Grazie Presidente. Allora, proprio grazie al Decreto Minniti è stato istituito un tavolo di lavoro alla Prefettura già da diversi mesi, a cui partecipa il Mise, Roma Capitale, le Forze dell'Ordine e la Regione Lazio. Questo tavolo di lavoro ha al centro della discussione anche l'utilizzo delle telecamere e la realizzazione di un archivio. Si riunisce una volta al mese e già Roma Capitale ha messo a disposizione delle altre forze dell'Ordine, proprio in funzione di questo tavolo di lavoro, 1290 telecamere gestite da Roma Capitale o comunque da partecipate di Roma Capitale. 1290 telecamere verso i Carabinieri, 1290 telecamere verso la Guardia di Finanza e 1324 telecamere verso la Polizia dello Stato. Uno degli obiettivi di questo tavolo di lavoro è proprio un censimento per creare un archivio. E' già in stato avanzato un lavoro per cui si farà questo archivio di tutti i soggetti pubblici e privati che ci sono a Roma. Sono state messe georeferenziate già 6.677 telecamere da parte di soggetti pubblici e privati. Quando intendo soggetti privati intendo centri commerciali, istituti di vigilanza, quei posti dove le telecamere vengono messe dai privati ma che possono avere una forte importanza sociale. La Regione Lazio ha già dato la disponibilità per implementare la connettività sia verso la Sala Sistema Roma e viceversa verso le Forze dell'Ordine. Pertanto questo lavoro è già in corso di attuazione, proprio di attuazione, perché condividiamo lo spirito di questa delibera, perché è importante per la sicurezza dei cittadini il coordinamento delle forze dell'Ordine e l'utilizzo delle telecamere per far sì che si possano arrivare a scoprire coloro che commettono dei reati e per proprio dare una maggiore sensazione di sicurezza e maggiore sicurezza alla cittadinanza. Visto che il lavoro è già in fase di attuazione, perché lo condividiamo in pieno, riteniamo superata la delibera che oggi discutiamo in aula e pertanto a questa delibera il Movimento 5 Stelle si asterrà. Grazie.